la chiamano estate seconda parte ci occupiamo ora di pelle il viso la cura del viso l'idratazione la pulizia come idratare il viso ci sono mille prodotti quali utilizzare che tipo di pelle abbiamo e come capirlo poi soprattutto sui social network e su instagram in particolare gli e le influencer ci propinano qualsiasi tipo di prodotto come scegliere il prodotto giusto e parliamo anche poi di esposizione al sole come proteggerci tra creme e anche alimentazione o integratori ne parliamo con un'esperta con la dottoressa rossana capezzera una dermatologa bravissima lei è la coordinatrice regionale dermatologi ambulatoriali ed è una dermatologa della piattaforma collabora con la piattaforma online my skin è una piattaforma professionale di salute digitale dedicata alla dermatologia da in collegamento con noi dottoressa capezzera benvenuta buongiorno grazie la prima volta che ci siamo conosciuti abbiamo chiacchierato insieme abbiamo sfatato un sacco di miti di luoghi comuni ma soprattutto abbiamo spiegato ai nostri telespettatori quali siano degli oggetti degli strumenti che i social network e gli influencer e le influencer ci propinano e ci ha dato dei consigli quali utilizzare quali no quelli che ci possono far male invece quelli che invece possono essere delle coccole questa volta parliamo di in questa cosa ci entrano sempre i social network perché ci propinano veramente il mondo con i prodotti per il viso parliamo di trattazione del viso di pulizia del viso quanto è importante idratare il viso dottoressa capezzera è fondamentale direi ricordiamoci che siamo fatti d'acqua quindi la prima idratazione fondamentale è quella di bere l'acqua sembra un consiglio assolutamente semplice ma in realtà ha un'importanza nella qualità della formazione della pelle vuol dire prima di ogni prodotto dobbiamo bere tanta acqua durante il giorno durante il giorno bisogna bere stimata la quantità di fabbisogno di otto bicchieri al giorno le classiche tre bottigliette da mezzo litro di acqua naturale che dovrebbero sempre accompagnarci durante la giornata ovviamente l'idratazione deve essere incrementata quando si fa sport quindi soprattutto negli sport aerobici o di cardio fitness perché attraverso la perspirazio e traspirazio che è la sudorazione si perdono elevate quantità d'acqua quindi bisogna reintegrarle questo è fondamentale prima di passare all'idratazione topica locale quindi prima si beve tanta acqua durante il giorno perché abbiamo bisogno di idratare la pelle bevendo e poi bisogna idratarla anche con dei prodotti innanzitutto i prodotti cambiano a seconda della pelle però come facciamo a riconoscere il nostro tipo di pelle dottoressa capezzera perché fa c'è tipo e quando andiamo a comprare un prodotto lei che pelle ha ci dice la commessa della profumeria o dell'erboristeria quando in teoria noi non è facile capire come che bella che pelle abbiamo se abbiamo la pelle secca perché poi ho visto da un articolo su my skin che c'è differenza tra pelle secca e pelle disidratata pelle grassa pelle mista c'è una confusione non lo sappiamo nemmeno noi sì non è facile bar camminarsi in modo autonomo nel ventaglio dei prodotti più o meno validi che ovviamente vengono proposti anche nelle farmacie perché dovrebbero essere individualizzati allora chi non ha problematiche particolari sia giovanili parlo della patologia diciamo più diffusa che è l'acne per dire bisogna oppure nella pelle matura che può essere più o meno secca xeroptica bisogna comunque allinearsi con prodotti per fasce d'età e per stagione anche direi cioè la crema i prodotti che utilizzano inverno non possono essere gli stessi dell'estate esattamente di solito ci sono delle accortezze nelle formulazioni che rendono non solo gradevole nell'applicazione ma soprattutto ottimizzano l'assorbimento quindi bisogna scegliere in base anche alla stagione in cui vengono applicate di solito questo lo consiglia lo specialista in chi ovviamente si interfaccia con lo specialista per delle problematiche legate all'acute diversamente si preferisce utilizzare dei prodotti leggeri che cosa vuol dire leggeri? che abbiano una texture che non va a contrastare eventuali caratteristiche come la pelle mista piuttosto che una pelle molto xerotica perché sulla pelle mista se utilizziamo delle sostanze oleose otteniamo un effetto non voluto che è quello magari di crearla una patologia una patologia da occlusione del prodotto che io mi sono messa sul volto quindi gli oli per esempio non vanno bene nella pelle mista giovanile acneica sul volto vanno preferite nelle muscoli no io dirò che se la stavo ascoltando con attenzione perché è facile dire vado a comprarmi una crema idratante una crema antirughe una crema per il giorno per la notte poi c'è la crema invece che puoi mettere la mattina il sera il siero è difficile anche la scelta dei prodotti da utilizzare per la pelle per questo dobbiamo affidarci almeno per capire che pelle abbiamo un esperto o un dermatologo perché se no il fai da te per noi che non sappiamo niente che non siamo medici sicuramente non è una scelta facile è rischioso il fai da te aggiungerei perché allora un giovane che è il target diciamo di riferimento per i social di solito sono i ragazzi che sono quelli più connessi diciamo spesso non hanno problematiche importanti che richiedano delle cure giorno notte a meno che abbiano una diagnosi stiamo parlando di psoriasi dermatitatopica acne o addirittura ancora più importanti e quindi hanno il loro dermatologo di riferimento che può indirizzarli quindi quelli che hanno la fortuna di non avere patologie e sono giovani direi di prediligere sempre il prodotto con la dicitura per pelli miste perché soprattutto le ragazze sono attente allo skin care in questa fascia di età probabilmente possono avere una pelle tendenzialmente seborroica quindi un po' grassa ecco perché devono prediligere questo tipo di prodotti che sono prodotti oil free e quando è che cambia la pelle dottoressa capezzera perché per i giovani che non abbiano patologie come l'acne o altri tipi di patologie lei consiglia di scegliere non per tutti però in generale le creme per pelli miste quando è che la pelle comincia a cambiare noi dobbiamo scegliere in maniera più con più attenzione la crema per pelli secche o per pelli grasse ovviamente la donna è soggetta al ciclo ormonale e quindi cambia sia mensilmente il tipo di pelle sia nel corso degli anni diciamo che più ci si avvicina al periodo pre climaterio pre meno pausale stiamo parlando dopo i 40 anni anche perché alcune gravidanze fa parte ormai dell'attualità avvengono addirittura le prime a 40 anni diciamo più verso i 45 anni la pelle tende a perdere fisiologicamente quelle elasticità e anche la produzione delle ghiandole sebace inizia relativamente a ridursi ecco che il risultato sulla cute risulta in secchezza più o meno accentuata in base alla genetica del soggetto anche in base alla conformazione del viso del soggetto il soggetto magro può essere più caratterizzato da questo tipo di secchezza e anche dalla formazione diciamo precoce di rughe invece il viso più rotondo si mantiene più giovane a lungo è effetto appunto del tiraggio dei chili in più certo dei chili in più che diciamo sul viso paffutello nella donna oltre i 45 agiscono con un senso diciamo positivo nel senso che hanno questo effetto di tiraggio naturale dato dalla paffutezza del volto quindi quel tipo di volto risulta spesso meno secco rispetto al fisiotipo magro e invece negli uomini quando comincia a cambiare un po' la pelle perché anche gli uomini tengono particolarmente al proprio aspetto fisico e alla cura della pelle abbiamo parlato tante volte a parte con lei ma anche con delle estetiste per i trattamenti e gli uomini sono sempre lì in prima linea quando ci sono delle novità e anche gli uomini tengono particolarmente alla cura della propria pelle gli uomini quando cambia un po' la pelle? Allora innanzitutto confermo che è vero è vero? Vanitosi parecchio adesso eh anche gli uomini ci tengono moltissimo alla pelle del volto soprattutto quindi nel modo di porsi con gli altri spesso sono personaggi di rilievo o che fanno attività front office quindi col pubblico e quindi ci tengono molto anche loro alla qualità della pelle alla cura della pelle non sono più resti all'applicazione delle creme che veniva vista più come un'abitudine femminile diciamo ecco e allora anche l'uomo è soggetto a non ovviamente al ciclo mestruale ma ha dei cicli ormonali e quindi più si avvicina verso la cosiddetta è una brutta parola ma usiamo la andropausa è che solo noi andiamo a meno pausa dottoressa capezzera e scusi eh esatto e ha ragione non creiamo stigmati esatto e più anche loro cambiano ovviamente in più hanno la componente della rasatura che è un effetto irritativo per loro di quotidiana ovviamente mansione e anche in questo devono essere attenti ai gel rasage che usano o alle schiume che usano perché anche queste possono avere un effetto più o meno idratante oppure di secchezza sulla loro cute e dopo la rasatura cosa devono mettere gli uomini sulla pelle per non farla ritare e renderla morbida perché uno pensa sempre alle donne però anche loro hanno provano la pelle cioè la trattano con o la lametta ma anche con il rasoio sì anche con il rasoio le lamette ovviamente devono essere di elevata qualità condivido perché assolutamente hanno un effetto principale nella rasatura le monouso di solito è bene comunque utilizzarle come monouso cioè una volta sola invece vedo che la tendenza è quella a riutilizzare il prodotto sì e questa è di cattiva abitudine perché sulla lama possono depositarsi dei microrganismi quindi perlomeno incoraggio sempre a disinfettare la lama e ovviamente sia prima dell'utilizzo che immediatamente dopo e venga riposta in un posto ovviamente non dico asettico ma pulito in una custodia ottimi consigli perché non se ne parla mai dottoressa capezzera ecco delle abitudini maschili in fatto di cura del viso quindi sono veramente consigli preziosi quelli che sta dando anche perché ovviamente nella mia pratica ambulatoriale mi capita spesso di vedere follicoliti della zona della barba questi possono essere dati da auto-inoculazione con la rasatura o addirittura verruche filiformi verruche caratteristiche di quest'area che possono anche queste essere patologie data da auto-inoculo quindi è fondamentale la disinfezione della lametta e appunto scoraggio l'utilizzo per più giorni dei monouso in monouso si chiamano tali perché vanno buttati via e quindi dobbiamo disinfettare cioè gli amici dobbiamo disinfettare anche invece quell'altra tipologia di lamette che sono quelle un po' più costose non faccio nomi ma abbiamo capito quali sono quelle di metallo che sono più costose e quelle si cambiano lì si cambiano soltanto le munizioni quindi la lametta stessa e quella quanto dura? Di solito quante volte possiamo radderci con quelle? Quella anche una decina di giorni possono essere utilizzate l'importante è che la lama tagli perché poi si usura anche la lama e anche quelle vanno disinfettate dopo la rasatura? Quelle soprattutto cioè il mio consiglio era riferito soprattutto a quelle disinfettate pre e post rasatura sempre perfetto anche con i disinfettanti comuni che si trovano al supermercato i cosiddetti non bruciano anche quelli sono sufficienti e la stessa cosa il rasoio il rasoio quello elettrico dobbiamo disinfettarlo perché spesso quello non viene disinfettato io vedo esattamente anche quello anche quello così come i dispositivi di epilazione che abbiamo appunto a casa che utilizziamo noi donne per l'epilazione delle gambe piuttosto che devono essere sempre disinfettati infatti alcuni di loro sono corredati di testina rimovibile certo che è più facile sciacquare con l'acqua e il sapone direi oppure con la disinfezione gli uomini quindi dopo la rasatura che cosa devono applicare sul viso per non farlo evitare? dei gel i cosiddetti gel vanno bene a base di acido ialuronico che è un idratante eccezionale e che contiene anche di per sé stesso delle proprietà antinfiammatorie quindi di ristrutturazione dell'acute che è stata insultata si usa questo verbo con la lametta perfetto veniamo alle donne ma anche agli uomini perché questi sono passaggi miei cari uomini che potete fare anche voi cioè in gergo adesso va tanto di moda dire skin care ma è sicuramente la pulizia, l'idratazione e la cura del viso con dei prodotti il primo passaggio per pulire il viso la sera e levarci il trucco voi uomini non ve lo levate qualcuno magari sì che ne sappiamo però noi donne ci leviamo il trucco lo facciamo con che cosa? acqua micellare con i detergenti schiumogeni come ce lo togliamo il trucco? allora il trucco io direi prima di tutto che va deterso con il sapone sapone a risciacquo pH neutro sostanze estremamente delicate e che non contengano profumi no la saponette quindi perché io ho letto che il sapone la saponetta non va bene no non è del tutto corretto la saponetta va bene esistono dei saponi saponette che vabbè i dermatologi innanzitutto chiamano pane dermatologico che è un termine e vabbè e lei gioca in casa dottoressa Capezzera io parlo come come se parlassi con una mia amica al bar allora il pane dermatologico lo vendono anche in farmacia perché questa è una questione anche di gusti realmente che viene utilizzato da persone che è legata alla vecchia tradizione della detersione e va anche quello benissimo l'importante è scegliere un prodotto appropriato neutro per il viso data al viso bravissima col pH 5,5 e risciacquarsi molto bene con l'acqua semplicemente tutti i residui di trucco che permangono devono poi successivamente essere rimossi con le acque micellari qui invece pensi io faccio il contrario prima acqua micellare e poi il detergente io uso uno schiumogeno invece il contrario cioè prima il detergente e poi l'acqua micellare vede e poi l'acqua micellare poi di acque micellari anche qui ne abbiamo disponibili tantissime di fase diversa nel senso che ci sono prodotti che vengono chiamati oli in acqua o acqua in oli a seconda del cosmetico da rimuovere per esempio adesso ci sono tantissimi rossetti cosiddetti permanenti che hanno un effetto di lunga durata anche per 12 ore che devono essere necessariamente rimossi con delle acque micellari bifasiche in modo tale che abbiano dell'olio dentro per rimuoverlo dalle labbra altrimenti le acque micellari semplici non sono in grado di avere questo effetto di rimozione l'effetto delle acque micellari semplici con pH neutro va molto bene per diciamo gli ombretti anche per i mascara certe volte bisogna utilizzare i bifasici perché ci sono i cosiddetti prodotti waterproof e quindi sono più tenaci da rimuovere questo effetto il sapone solitamente non è in grado da solo di rimuovere completamente ecco perché l'acqua micellare è meglio utilizzarla dopo quindi sapone acqua micellare abbiamo pulito il viso una volta pulito il viso siamo sempre di sera facciamo che di sera poi passiamo anche alla mattina allora se stiamo parlando di una pelle giovanile problematica magari acneica con un'acne moderata o lieve si utilizzano delle creme non comedogeniche quindi non grasse che abbiano un principio attivo che possa in qualche modo lenire la componente infiammatoria che questa patologia può comportare allora se siamo in questo periodo perché stiamo parlando di estate devono essere sostanze non fotosensibili anche se si applicano la sera comunque l'assorbimento può perdurare fino al mattino quindi significa che la cosiddetta vitamina A la sera è bene localmente non applicarla e neanche i suoi derivati perché questo può comportare appunto poi delle problematiche da spiaggia cioè la pelle diventa molto sensibile alla radiazione ultravioletta e può comportare delle spottature non attese d'accordo? bene e quindi magari prediligere dei cosmeceutici che contengono sostanze che abbiano un'azione di riduzione cioè tipo che contengono acido citrico semplicemente ma non prodotti fai da te non sto incoraggiando assolutamente a preparare dei cocktail con limone d'accordo? sto dicendo solo di prediligere di questo tipo di sostanze quindi delle emulsioni dei fluidi o addirittura dei gel che possano essere applicati e rimanere sulla cute per tutta la notte invece per gli over 30 e gli over 40 che cosa? arrivo allora per questo tipo di pelle che invece tende a seccarsi molto di più magari dopo l'esposizione al sole durante una giornata di vacanza diciamo la pelle deve essere necessariamente reidratata quindi ci sono degli after sun dei dopo sole che possono essere utilizzati come crema da notte sono anche queste delle creme diciamo leggere ma più consistenti rispetto come texture rispetto a quelle che può usare una ventenne contengono acido ialuronico o dei ristrutturanti a base di vitamina C questo impedisce anche la formazione delle cosiddette macchie legate all'esposizione solare prolungata negli anni o all'età sto parlando anche delle cinquantenni delle sessantenni che possono avere quelle macchie antiestetiche legate appunto al discromie da sole da esposizione cronica agli ultravioletti la vitamina C sì prego è importante la vitamina C io ne ho una crema che contiene anche la vitamina C sì la vitamina C è fondamentale per come anche schiarente oltre che essendo una vitamina andare a nutrire profondamente la cute e tutti i suoi componenti in alcuni casi addirittura la prescriviamo da prendere per bocca la vitamina C ma anche in questo devo avvisare tutti tutti gli spettatori e anche i miei pazienti che avviso personalmente di non abusare di vitamina C nel senso che presa come parafarmaco come integratore non deve superare determinate dosi si dice appunto di non superare l'assunzione dei 500 mg al giorno e per non più di 20-30 giorni e di bere tanta acqua perché può formare calcoli la vitamina C inoltre fluidifica il sangue quindi le persone che sono in terapia antiaggregante addirittura anticoagulante devono prendere dei dosaggi ridotti di questa vitamina che può amplificare l'effetto dei farmaci Ha fatto bene a dirlo magari poi avremo occasione di parlarne in modo specifico gli integratori non si prendono così come se fosse acqua anche lì vanno comunque discussi con il nostro medico che sicuramente ci darà il dosaggio giusto e anche l'integratore giusto perché soprattutto in televisione vediamo un sacco di pubblicità sugli integratori quelli che in teoria ci dovrebbero dare energia e carica però io dico sempre sentiamo il medico non è che si va in farmacia e si prende l'integratore così quindi ha fatto benissimo a dirlo quindi Ale volevo fare una domanda quante domande ho dottoressa da capezzera va tanto la crema a base di lumaca di bava di lumaca che ne pensa? sì allora penso che ha un effetto tirage valido riguardo però le cosiddette bio dico dico solo sempre di controllare molto bene i componenti perché tendo a fidarmi ovviamente di quello che la farmacia può proporre ci sono delle bave di lumaca ingegnerizzate quindi sono purificate e non contengono delle sostanze che possono irritare alcuni tipi di pelle cioè la mia attenzione è sempre verso le pelli problematiche che possono utilizzare magari queste sostanze biologiche con nonchalance e invece ottenere degli effetti non voluti quindi è sempre bene utilizzare un prodotto purificato e quindi controllato dermatologicamente testato ed esistono degli effetti bava di lumaca adesso ovviamente non siamo qui a sponsorizzare le case farmaceutiche però ci sono alcune che funzionano e alcune che funzionano esattamente hanno un effetto però di durata è la durata durata effetto serata cioè di non pensare che sia l'eterna giovinezza cioè vanno rinnovate vanno utilizzate frequentemente però l'effetto serata si ha di sicuro d'accordo bene che vedete che consigli poi se volete sapere magari in più potete prendere l'appuntamento alla testa capezzera se siete del nord se no basta scriverle sicuramente ci sarà una consulenza anche online siamo in chiusura quante domande che le devo fare sicuramente ci facciamo una affazzoletta e ci risentiamo come si mettono come si mettono sul viso le creme qual è la modalità in su come si spargono le creme allora il massaggio facciale è sempre fondamentale deve essere delicato e deve andare dal basso verso l'alto quindi così il movimento circolare eh sì esatto poi il movimento circolare anche aiuta molto oppure se deve essere semplicemente un massaggio facciale con il nostro diciamo pugno dopo averla stesa e fatta assorbire la crema dal mento verso le tempie va comunque ulteriormente palmata questo permette un tiraggio naturale ovviamente un massaggio che aiuta il muscolo facciale a distendersi e anche un effetto levigante almeno per qualche volta in questo modo di questo ne abbiamo parlato affronte invece in questo modo così perfetto quindi così dal centro verso le tempie o da una tempia all'altra prima in un verso poi nell'altro lo farò e glielo saprò dire ne abbiamo parlato anche la volta scorsa la pelle va curata da ragazzi quindi da giovani perché poi ce lo ritroviamo da adulti e se il nostro stile di vita è uno stile di vita giusto quindi si mangia bene non si fuma si fa un po' di sport si beve tanto gli effetti delle creme dei prodotti che utilizziamo ci sono si vedono e quindi ecco la giusta crema può avere i suoi risultati e quindi pulizia come abbiamo detto prima della crema lo metto il siero perché adesso vanno tanto i sieri allora il siero va molto bene nel contorno occhi quindi nella donna matura va picchettato prima di applicare la crema così si ottiene un effetto sinergico già di per se stessi in modo singolo questi prodotti possono avere la loro efficacia però diciamo che l'accoppiamento di questi due prodotti aumenta l'efficacia sotto il siero picchiettato nelle parti dove vogliamo la sua azione e poi la crema d'accordo che nutre che ha una texture più consistente la ringrazio dottoressa Capezzera grazie per i suoi consigli utilissimi buone estate buone vacanze buone ferie ci sentiamo presto grazie arrivederci buona giornata a tutti arrivederci grazie a dottoressa Rossana Capezzera una dermatologa è la coordinatrice regionale dermatologi ambulatoriali è un dermatologa e collabora con la piattaforma MySkin che è una piattaforma professionale di salute digitale dedicata alla dermatologia bella puntata anche oggi potete rivederla su youtube sul nostro canale su youtube Cusano Italia TV grazie di essere stati con noi anche oggi buon prossimo giornata ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.